Udite Udite sta per arrivare la carta di credito Apple, andrà su circuito Mastercard e sarà disponibile chiaramente su tutti gli iPhone. E mentre da una parte le vendite dell'iPhone, dell'iPad e dei Mac cominciano a diminuire, soprattutto quelli degli iPhone, in casa Apple stanno pensando a come tirare a campare, a chiudere il mese. E sono inventati questa carta di credito fisica e chiaramente anche digitale sul wallet appunto dell'iPhone. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali americani, è già in distribuzione per alcuni dipendenti di Apple, che la stanno testando, la stanno utilizzando, la stanno integrando con i propri servizi. Tra le egevolazioni che questa card porterebbe ci sono naturalmente gli sconti sui prodotti Apple, quindi con questa carta di credito potrei avere degli sconti su Apple, negli Apple Store, negli eventi collegati alla catena. Questo, diciamo, confermerebbe quello che è un trend che gli analisti già stanno dicendo da tempo, che i mondi business legato a alcuni brand fondamentali, Apple uno di questi, non si fermeranno soltanto ai prodotti, ma per esempio alle caffetterie, per esempio ai consumi, per esempio alle automobili. Ecco, tutto quello che sarà il mondo Apple, con un'unica iscrizione, avrai tutto, dal film, cinema, musica, prodotti e chiaramente in questo caso moneta. Fatemi sapere cosa ne pensate e se serve finalmente un'ulteriore carta in più rispetto a quelle che già abbiamo nel nostro portafoglio. Vuote, ma ce le abbiamo.